Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, code tra Firenze Scandicci ed il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In direzione Roma, 3 km di coda per un incidente al km 396 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Ina 11, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla statale 2 via Cassia è chiuso fino a domani il tratto, in entrambe le direzioni tra i km 144, 800 e 152, 500 a Radicofani, in provincia di Siena. Spostandoci sulla FIPL, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!